si ero dato gesù cristo avanti con maria carissimi figlioli di radio domina e tv dovina ben trovati a tutti voi oggi abbiamo pregato di pomeriggio alle 18 la quella che io chiamo orazio e burnea l'orazio e burnea che in latino significa la preghiera ad avorio cioè i tre rosari tutti insieme davanti a gesù caristia ho sentito molto forte dentro di me che questa preghiera è un rimedio come lo sono state le 40 ore durante la tempesta luterana ecco come durante la tempesta luterana san filippo neri ma non solo diffusero tanti santi le 40 ore come rimedio per fronteggiare proprio l'eresia luterana ho sentito molto forte oggi questo questa idea ecco chiamiamola così così nessuno si scompone più di tanto ho avuto questa idea chiamiamola così questa idea cioè che questi tre rosari pregati insieme uno dietro l'altro davanti al santissimo sacramento sono un prezioso baluardo contro le potenze anticristiche che in questo momento più che mai avanzano per distruggere la fede cattolica quindi l'orazio e burnea poi vorrei anche esprimere la mia personale gratitudine non so se anche la vostra a don erico a don erico che oggi nella messa celebrata nel pomeriggio se non prende errore dalla provincia di treviso ha tenuto un'omelia di fuoco straordinaria fortissima che invito tutti voi se non l'aveste ascoltata ad ascoltare e io per primo gli sono personalmente grato di questa omelia che oggi durante la messa don erico ha tenuto e lo ringrazio anche a nome di tutto il piccolo resto allora ma ormai siamo vicini alla festa di san charbel veramente molto bello pensare che abbiamo sviluppato questa devozione a questo mistico monaco eremita taumaturgo libanese che è chiamato il padre pio del libano dopo fra tre giorni fra quattro e noi tutti ci prepariamo a festeggiarla stiamo facendo la novena anche io imporrò l'olio non so se don erico cia quest'olio speriamo di sì così anche lui potrà adoperarlo mercoledì nella celebrazione al termine della celebrazione eucaristica dunque questa sera andiamo avanti col racconto della sua vita e penso che entro mercoledì la concludiamo così l'abbiamo presente tutta per intera ma volevo dire che lui è chiamato il padre pio del libano mi sembra un titolo bello ma io penso che non sia esattamente quello che gli compete maggiormente perché io penso che dovremmo chiamarlo il santo antonio abbate dei nostri giorni sapete tutti che è santo antonio abbate il primo monaco del deserto che ha affrontato una battaglia senza precedenti col diavolo per essere tutto di dio questa cosa di essere tutti di dio non è da prendere di essere tutto di dio non è da prendere a cuor leggero non appena un'anima si decide in questo mondo anticristico di essere tutto di dio le forze del male le inventano tutte per impedirlo e questo è il fuoco diciamo il nucleo infuocato peraltro se l'è portato a presso san sciarbelle e perché dio gli ha conservato il corpo intatto che noi oggi lo veneriamo altrimenti lui sarebbe riuscito nell'impresa di aver ottenuto grandi vittorie contro il diavolo di avere combattuto in maniera straordinaria contro il principe delle tenebre ma di avere poi casomai portato tutto con sé nella tomba lui ha portato tutto con sé nella tomba ma dio appunto ha voluto che venisse reso noto quindi per me come antonio abbate san sciarbe io penso quando lo guardiamo noi possiamo avere un modello prezioso di chi si dà totalmente a dio e vediamo quanto oggi in questa formazione dei preti una formazione di tipo sociologico come fossero impiegati statali come tu vedi quel prete lì che fonda l'associazione per lottare contro la mafia quell'altro prete che fonda l'associazione per difendere l'ambiente le querce in amazzonia piuttosto che gli indios d'america piuttosto che le ong che salvano gli immigrati per carità l'impegno nel sociale non va demonizzato ma noi non siamo stati chiamati sacerdoti per questo ma come dice san paolo ciascuno ci consideri amministratori dei misteri di dio ecco e questo primato di dio che si respira nella vita di san charbel è veramente prezioso ecco perché oggi siamo tutti chiamati veramente a riscoprire il primato di dio allora questa sera noi andiamo a indagare non è facile gli anni della vita eremitica abbiamo visto charbel piccolo josef si chiamava abbiamo visto charbel religioso novizio abbiamo visto charbel indossare vi ricordate l'abito monastico abbiamo fatto tutto un discorso sull'abito che è molto importante divenire poi sacerdote monaco adesso invece c'è il taglio più diciamo significativo nella vita di san charbel che è appunto quello dell'essere eremita ecco l'eremita è uno che va a vivere solo con dio lui ottiene questa grazia e vediamo un po come trascorreva trascorreva le sue giornate poi raccogliamo qualche aneddoto il centro della giornata dell'eremita charbel ripeto che vive da solo era la celebrazione della messa mi pare che la volta scorsa avevamo proprio trattato della messa di san charbel della devozione eucaristica e vi ricordate anche citavamo don divo barsotti del fatto che san charbel ma piangeva durante la messa ma mentre di san charbel lo possiamo solo dire vi prego se non l'avete ancora fatto di andarvi a guardare il video della messa del giovedì santo di non mi ricordo quale anno di don divo barsotti e vi accorgete che lui spesso mentre celebra come faceva padre pio è un tipo di mistica diversa quella di padre pio è una mistica immediata per il popolo di dio capite c'è una mistica più popolare non so come dire quella di don divo barsotti era una mistica più teologica era amico di fond baltasar scriveva libri però anche lui piangeva ecco quindi il centro della giornata di charbel era la celebrazione della messa sempre preparata con cura e seguita da una lunga preghiera di ringraziamento l'intera giornata era occupata poi dal lavoro nella vigna anche questo abbiamo visto il lavoro quanto è importante nella vita di un eremita perché se no che fai e bisogna essere capaci di un equilibrio psicologico prezioso realmente io ho visto questo alcuni giovani si sono smarriti nella vocazione quando diventano pigri la pigrizia l'ozio e il padre dei vizi è proprio vero e nascono le impurità carnali nascono i richiami del mondo la pesantezza il tedio nella preghiera invece bisogna lavorare ecco bisogna tenersi solerti nel lavoro combattendo il sonno perché attenzione figlioli cari lo dico qui perché parlo a tutti voi che siete in ascolto su radio domina e tv domina però come sapete qui ho questi figlioli maschi e femmine ai quali dico abbiate chiaro che questa lotta contro il sonno che diversi di voi affrontate a parte il fatto che non vi dovete sentire soli perché io la conosco ma non è umana non è umana è preter naturale cioè satana invia e lo vediamo perché ci sono quelli pronti ad aggredirmi quando io dico queste cose lo vediamo con i padri del deserto no che appunto il demonio il demone del sonno veniva inviato ogni volta che si inizia a pregare quando te inizi a pregare no non so chi non lo viva questo un sonno dell'altro mondo appunto ecco san charbel ha conosciuto tutto questo ma lavorava nella vigna andava a riposarsi alle 20 e 30 dopo la recita di compieta a mezzanotte si alzava e andava nella cappella per l'ufficio notturno quindi 21 e 30 22 e 30 23 e 30 sono tre ore e mezzo di sonno è soltanto tre ore e mezzo di sonno quindi non lamentiamoci noi è io non mi posso lamentare tre ore e mezzo di sonno e raramente poi tornava in cella cioè la regola prevedeva che lui potesse tornare in cella per continuare a dormire un'altra ora ma non andava quasi mai in cella san charbel rimaneva in cappella a pregare davanti al santissimo sacramento che era la compagnia che egli desiderava più di ogni altra ma infatti al termine questa catechesi fiolicari noi insieme voglio pregare per tutti voi san charbel per chi chiede grazie e in particolare per un figliolo che ha fatto il trapianto di leucemia non so a che punto sta la moglie me lo ha raccomandato e io sto pregando per lui pregheremo tutti insieme per lui preghiamo per tutte le intenzioni che vengono esposte durante i momenti di preghiera e perché san charbel ottenga grazie però san charbel è più indicato per ottenere le grazie quelle che non chiediamo spirituali l'amore alla preghiera l'amore a gesucaristia la devozione mariana la purezza l'umiltà ecco la cella in cui viveva da eremita era quanto di più povero e di più spartano si potesse immaginare un giorno alcuni monaci in visita all'eremo dove lui si trovava lo sbirciarono di nascosto videro com'era organizzata questa cella questo eremo lasciarono questa descrizione è una piccola cella stretta annerita dal fumo c'è un letto di assi di legno appoggiato a due pietre non abbiamo visto materasso né coperta sulle assi c'era una stoia di pelli di capra cioè questo qui veramente ha reincarnato i padri del deserto è capite una cosa formidabile straordinaria alla fine del diciannovecimo secolo san charbel è un padre del dè è antonio abbate redivivo potremmo dire ecco e all'eremo charbelle cerca di nascondere questo suo progresso nella vita di grazia ma ci sono degli episodi che ci rivelano come invece egli riusciva a vivere in unione con dio per esempio un giorno tre confratelli lo vanno a trovare tre monaci non eremiti lui era eremita maronita e gli baciano la mano e gli chiedono la benedizione charbel domandò da dove venite fratelli loro raccontarono in quale paese erano nati e da quale monastero provenivano charbelle fece un'altra domanda abbastanza strana nei conventi dove siete passati guardate che domanda di san charbel avete saputo di qualche nostro fratello deceduto per poter celebrare la messa per lui una domanda strana cioè la preghiera di suffraggio per le anime del purgatorio era una delle missioni particolarmente sentite avvertite da san charbel non appena i tre monaci risposero no e gli se ne tornò nella sua cella si rifece vivo quando padre macario il superiore lo mandò a chiamare per il pranzo che consisteva per charbel guardate che menu straordinario io non avrei potuto reggere anche un solo giorno ma meno male che io sono solo un povero pretaccio per quello che ancora resta consisteva in una scodella di pane secco erbe cipolle un po di aceto e un po di olio ecco questo era tutto il pasto di cui si nutriva san charbel quindi stasera stiamo proprio dicendo sì come padre pio perché taumaturgo il corpo vabbè però direi anche come antonio abbate ecco allora i monaci però si accorgono sbirciano dove vive charbel no e si accorgono che è un veramente una grotta umida soprattutto si accorgono ci sono delle crepe e allora uno dei monaci un po arditamente dice padre voi trascorrete tutta la notte in questa chiesa quest'eremo perché era un po in montagna è esposto ai fulmini è sufficiente un colpo di tuono per farvi crollare tutto addosso perché non fate dei restauri perché non cambiate ditelo al superiore san charbel replicò non dite nulla figlio mio dove posso trovare un posto più santo di questo per morirvi ecco questo primato di dio figli cari questo radicalismo evangelico che charbel ha incarnato e che oggi in questa società pseudo soddisfatta opulenta edonista materialista ci propone il primato di dio la sobrietà del vivere il distacco il distacco anche vero però non ideologico dalle cose della terra ecco quale luogo più santo disse san charbel posso trovare io per morirvi ma la fama di santità però di san charbel evidentemente si rifonde vi ricordate quando vi ho raccontato nelle prime delle catechesi che quando lui è morto e l'han portato al cimitero uno dei primissimi segnali che dio ha dato se vi ricordate era quello della colonna di fuoco che usciva fuori dalla sua tomba tanto che il primo ad andare a chiedere che cosa succedesse al cimitero ai monaci è stato un musulmano perché libano ci sono i musulmani capito a cui danno l'olio se però voi chiamate a nome di domi nutella l'olio non ve lo danno si vede che sono peggio dei musulmani ormai diventato è un musulmano che va a chiedere che cosa succede cosa succede perché cosa ha visto e voi accennete sempre un fuoco ogni sera si vede molta distanza anche perché era in zona diciamo montana e quindi lo vedevano dappertutto e i monaci vi ricordate vanno a verificare che in effetti c'è questa tomba del loro confratello charbel che era che emanava fuoco emanava il fuoco il suo cadavere pensate un po che straordinario ecco padre charbel amava ripetere questa frase qui dio ci ha creati egli si prende cura di noi dio è onnipotente viviamo bene senza alcun merito da porta da parte nostra racconta un giovane che lo va a trovare mentre stavamo descrivendo nel dettaglio la bellezza dei paesaggi che si trovano i nostri piedi dalle montagne al mare sapete che libano è tutta una zona costiera sul mediterraneo sopra la terra santa san charbel osservò questo è il dono di dio per il libano questo luogo è un dono del cielo ecco altri due giovani che lo vanno a trovare lo descrivono così la sua testa era sempre avvolta nel cappuccio ecco anche in estate teneva quando incontrava gli altri come segno di penitencia incontrando gli uomini incontrando gli altri solo maschi tra l'altro lui non ha mai visto una donna non ha mai visto una donna a casa quando era piccolo la mamma e la sorella basta non ha mai voluto incontrare le donne che saranno invece le prime quando lui muore ad andarlo a venerare perché finalmente lo possono vedere lo possono toccare lo possono venerare perché san charbel era cresciuto con una formazione di cui parla però la sacra scrittura il libro del siracide dice che la donna è amara come la morte mi pare che dica il testo sacro e quindi san charbel aveva questa diciamo esigenza di non lasciarsi coinvolgere emotivamente dai sentimenti per essere tutto di dio un'esigenza veramente angelica ma anche con gli uomini lui però tendeva a nascondersi stava sempre questo mi pare che ve l'ho detto quanti insegnamenti però per noi certo non possiamo fare quello che faceva lui però possiamo penso sarete d'accordo con me però possiamo trovare tanti insegnamenti che ci consolano e ci rincuorano stava sempre preferibilmente a occhi bassi bello raccolto in dio bello questo i due giovani che lo vanno a trovare dicono la sua testa era avvolta nel cappuccio gli occhi erano chiusi chiusi addirittura molte volte quando lui era vicino agli interlocutori per non guardarli affinché gli occhi fossero solo fissi nelle bellezze del creato e in dio e teneva gli occhi chiusi come l'immagine sempre lo rappresenta affinché non si distraesse gli occhi chiusi come fosse un angelo in forma umana trasportato dallo spirito nel cielo quando abbiamo lasciato l'eremo si alzò con modestia incomparabile e con delicatezza avendo gli occhi rivolti a un mondo al di là di quello che noi vedevamo quindi mentre li accoglie tiene gli occhi chiusi quando vanno via li volge altrove non li guarda direttamente e con le mani incrociate sul petto così in questo modo qui era un gesto che spesso san charbelle faceva col cappuccio occhi bassi quando incrociava le mani era segno per tutti gli interlocutori pochi l'hanno conosciuto pochi perché era un eremita va bene bisogna prima chiedere il permesso al superiore al padre macario e se padre macario riteneva utile per obbedienza charbelle e incontrava gli interlocutori non è che fossero tanti ma gli interlocutori sapevano che secondo lui non amava la chiacchiera non voleva dissiparsi nelle vanità dei discorsi e in certo punto metteva le mani così era segno per tutti che ora basta e questo lo faceva improvvisamente bruscamente mi sa che devo imparare anzi voi dovete imparare a farlo con me quando supero la mezz'ora mi mettete tutti così vabbè anzi mancano già sette minuti e lui diceva basta basta si metteva così era un modo per quindi le braccia incrociate sul petto e morvorava sempre le parole dio sia con voi dio sia con voi ma c'è ancora un'altra descrizione che ci viene offerta di lui perché è un po come se ci sfuggisse charbella ora proviamo ad acchiapparlo da tutte le parti possibili c'è un giovane che lo va a trovare e che grazie a dio ci dà una descrizione anche fisica di charbelle com'era com'era charbelle ecco la descrizione è la seguente questo già quando era eremita è il suo corpo è come una candela troppo magro molto scuro a causa del suo lavoro nei campi sotto il sole così testimonia padre iusef e mei al processo di beatificazione la vita scetica nei campi vi ricordate che vi dicevo che lui oltre a pregare lavorava da buone eremita e coltivava le vigne i vigneti e allora dice padre iusef questo giovane prete che lo va a trovare che il lavoro nei campi lo aveva smagrito e abbronzato aveva però la schiena dritta un collo proporzionato dita lunghe e sottili come le braccia un naso lungo e raffinato e i capelli lunghi secondo la tradizione degli eremiti non so avete mai visto i monaci non so se avete viaggiato nei paesi ortodossi questi monaci ortodossi che poi si avvolgono i capelli no si avvolgono i capelli e talvolta li sciolgono no questa è una tradizione che proviene dalla bibbia dei nazirei no quelli che consacrati di dio non tagliano mai i capelli vi ricordate sansone c'è una diciamo una derivazione biblica e allora non dappertutto ma moltissime chiese in moltissimi monasteri ortodossi i monaci non si tagliano i capelli però spesso li avvolgono come fanno le donne e facendo quelle cose lì ecco charbelle teneva i capelli lunghi sciolti ma qualche volta li al li annodava e sotto sotto il quindi un uomo affascinante comunque è abbastanza affascinante raffinato dice padre yousef capelli lunghi il suo viso era rotondo e fine e aveva una luce intensa nonostante tenesse gli occhi bassi sans charbel emanava una luce particolare è bello quello che dice un test dice il suo viso rifletteva la sua devozione l'amore di dio in ogni momento particolarmente durante la preghiera una luce celeste illuminava il suo volto perché il signore era la sua forza la sua ricchezza e la sua gioia permanente lui è morto abbastanza anziano ma i testimoni dicono che anche molto vecchio non ha smesso di conservare un'andatura svelta rispondente ad un'età più giovane ecco e va bene dopo allora noi dopo avere detto queste cose qui poche mi rendo conto che sono poche di sans charbel possiamo avviarci verso la conclusione lui era un uomo di silenzio ecco così viene definito l'uomo del silenzio le sue giornate trascorrevano così quanto turpiloquio eh figli cari quante parole vane che usiamo io per primo le troppe parole anche se utili disturbano la serenità della preghiera diceva noi parliamo talvolta persino mentre preghiamo le troppe parole e anche se utili disturbano la serenità della preghiera e e nemmeno la visita di suo fratello di sangue arrivato all'eremo da becca a kafra lo distolse dal silenzio e dalle poche parole quando il fratello quando il fratello bussò alla porta dell'eremo fu lo stesso charbel a rispondere a chi a chiedere chi sei dall'altra parte sono il fratello dell'eremita charbel e lui abbi un po' di pazienza che vado a chiedere all'eremita se vuole riceverti charbel andò da padre macario il superiore e disse mio fratello è alla porta vuoi che gli apra ricevuto il permesso tornò dal fratello e la conversazione si limitò a esattamente a queste precise parole come stai bene tu e la tua famiglia praticate i vostri doveri spirituali senza attendere le risposte lo benedisse si mise di nuovo il cappuccio abbasso gli occhi e se ne tornò all'eremo ecco il volto trasfigurato come abbiamo detto il volto trasfigurato di san charbel un altro monaco padre butros mussa dipinge questo quadro del santo dice dopo avere finito le sue preghiere padre charbel andava nei campi a lavorare con i monaci e gli operai parlava poco non sentivamo mai la sua voce uomo del silenzio si raccoglieva in dio non sentivamo mai la sua voce se non quando leggeva il vangelo durante la messa e quando pronunciava parole utili alla santificazione quando gli veniva chiesto qualcosa egli rispondeva dolcemente e umilmente il silenzio che charbel tanto amava quindi non consisteva tanto in un'assenza di parole ma piuttosto nella pienezza della parola che era appunto dio un racconto a un monaco un giorno stavo lavorando la terra con l'aratro nella vigna dell'eremo insieme ad alcuni operai del convento e padre charbel cercava di mettere i rami della vigna al riparo dal passaggio dei buoi ma è capitato che una mucca sia passata sopra un ramo e lo abbia rotto provocando la reazione di padre macario questo ramo si è rotto per la tua disattenzione e subito charbel si è inginocchiato con le braccia incrociate sul petto chiedendo perdono l'obbedienza di charbel è stata definita anche questa angelica non di meno della sua umiltà l'umiltà e la consapevolezza di essere piccolo lo portava a preferire il nascondimento non si metteva mai in mostra talvolta nessuno avvertiva la sua presenza e quando i visitatori chiedevano la sua benedizione charbel la dava senza però guardarli senza però guardarli e sortava dicendo chiedete a dio di donarvi la fede chiedete a dio di donarvi la fede e se qualcuno lo prendeva in giro o lo disprezzava per la sua umiltà ritenuta eccessiva in altri scattava invece il giudizio tu sei un santo allora lui scrollava la testa e rispondeva dicendo io sono il primo dei peccatori a padre macario il superiore che sovente lo rimproverava charbel rispondeva se sono un asino sopportami in nome di cristo ecco sono tutte considerazioni molto importanti che ci fanno riflettere e allora andiamo adesso prima di concludere al fatto che ci sono miracoli nella sua vita significativi insomma anche gli animali gli obbedivano ecco questo per dirvi aveva raggiunto una condizione come si dice pre-lapsaria quasi perché anche gli animali ci sono episodi che non ho il tempo di raccontarvi molto belli che dimostrano come egli fosse proprio capace di dominare anche sugli animali il suo rapporto col sonno era quello che era dormiva neanche tre ore ma soprattutto col cibo ecco egli aveva deciso di rinunciare assolutamente ai piaceri della tavola charbella deriva a questo proposito in modo rigoroso non erano rare le volte che si limitava a prendere gli avanzi dei confratelli o i pezzetti di pane bruciato che venivano scartati per essere buttati via non assaggiava mai pietanze piacevoli e non conservava alimenti nella sua cella neppure quando si ammalerà chiederà un pasto diverso da quello preparato per tutti non mangiava nulla al di fuori degli orari stabiliti quando lavorava nei campi nella stagione dell'uva dei fichi o delle pere non toccava nulla specialmente nei mesi estivi amava sottoporsi alla penitenza della sete cercando di non bere oppure di bere acqua calda al posto di quella fresca ecco comportamenti che hanno spinto un confratello a commentare egli era in questo mondo ma non era più di questo mondo i suoi desideri le sue inclinazioni e le sue nostalgie erano esclusivamente per Dio e però anche Charbel lottava col diavolo ecco non abbiamo prove matematiche c'è solo qualche episodio vorrei citarvene uno per esempio si racconta che una volta padre Charbel era in soggiorno alla Cluc in un luogo appartenente al convento di Annaia a lavorare nei campi all'improvviso il monaco sentì Charbel che era poco distante da lui gridare e chiedere aiuto come un bambino lasciò l'aratro e corse da lui trovandolo calmo che ti è successo? chiede non è successo niente risponde Charbel poco dopo ancora altre grida ma sei impazzito cosa ti succede? dimmi e Charbel con un filo di voce una delle pochissime volte in cui si è lasciato andare alla verità ha risposto ho avuto una tentazione e Satana mi ha sconvolto celebrando la divina liturgia la messa era come sappiamo la sua vita e un giorno che stava celebrando improvvisamente San Charbel si sente male si accascia ai piedi dell'altare tenendo in mano l'eucaristia casca a terra con l'eucaristia nelle mani fu allora che padre Macario corse verso di lui per soccorrerlo e il malore corse padre Charbel mentre si stava comunicando al calice quindi la messa stava quasi finendo padre Macario lo invitò a lasciarlo ma dovette insistere e fare forza perché il monaco si era irrigidito seguirono otto giorni di dolori sempre in bilico fra la vita e la morte il corpo che aveva così tanto mortificato ora non gli dava pace padre Charbel l'eremita di Annaia esala l'ultimo respiro il giorno pensate un po' della vigilia di Natale 24 dicembre 1898 all'ora dei Vespri da giovane aveva deciso di morire al mondo lasciando la propria casa per seguire Cristo nella vita monastica per lui era semplicemente ora il passaggio necessario per essere definitivamente abbracciato dal Padre Celeste secondo il calendario liturgico con i Vespri era già cominciato il giorno del Natale e proprio nella festa del Natale egli respirando incontra finalmente quel Dio da lui così come poche volte si è visto nelle storie dei Santi così tanto radicalmente cercato adesso preghiamo insieme figli e cari come avevo promesso al termine di questo ciclo di catechesi su San Charbel da domenica prossima inizieremo un ciclo di catechesi sul mio libro trattato sull'eresia neoluterana intanto preghiamo un Pater Ave Gloria con tanta intensità voglio poi darvi la benedizione proprio con l'intercessione di San Charbel ecco in nomine Patris et Fili et Spiritus Santi Amen Pater Noster qui es in Cielis Santificetur Nomen Tu Adveniat Regnum Tu Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et in Terra Pane Nostrum Cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris etene nos inducas in tentazione se delibera nostra malo Amen Ave Maria Grazia plena Dominus Tecum Beneditta Tui mulieribus et beneditus fruttus ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Gloria Patria et filio e spiritui santo Sicut erati in principio et nunc et semper et in secula seculo romano Ecco se noi ti chiedessimo San Charbel di dirci una parola a tutti noi ti potremmo sentir dire Dio solo basta nella vita Ecco Allora figli cari siamo domani all'ottavo giorno della novena mercoledì è la festa di San Charbel Voglio invocare soprattutto sugli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito per intercessione di San Charbel e la benedizione del Signore Et benedizio Dei onnipotenti Patris et fili e spiritus santi descenda su per vos et mania semper vobiscum per Christum Domino Nostrum Amen San Charbel prega per noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti